L'annuncio della sospensione del bando per il progetto case proposto dall'assessore Francesco Bignotti può anche essere illegittimo. Parola del consigliere comunale dell'IDV, Lelio De Santis, che in conferenza stampa ha snocciolato dati e proposte. La delibera del 2012 2016 approvava il bando e fissava anche requisiti per rialloggi, residenza all'Aquila, cittadinanza italiana e altro. Partendo innanzitutto da una lentezza inconcepibile, secondo De Santis, per avere un alloggio anche nove mesi, per lui non si possono cambiare le regole in corso d'opera, anche perché l'ITER non è mai stato ostacolato. Si dice anche, spiega De Santis, che il 90% è costituito da extracomunitari, ma così non è. Sono invece il 60-65% dati alla mano e si tratta di persone che erano già nelle case del progetto case, che poi hanno presentato domanda per il bando per regolarizzarsi. Il comune dice che poi ha solo 256 alloggi sfitti, ma così non è. ribadisce De Santis, sono almeno il doppio e sono alloggi che al comune costano nonostante non siano abitati. Non possiamo giocare, tuona De Santis, sulla pelle della gente su temi così delicati. Il vecchio bando sostiene De Santis, ha delle critici tassi, una su tutte, la soglia dei 40.000, senza distinzione tra chi ha reddito alto e basso. Su questo, dice, si dovrebbe intervenire e non su altro. Il personale dell'ufficio riscossione, rileva poi De Santis, non è adeguato per reggere la gran mole di lavoro, basti pensare che il comune ancora non incassa in euro dalle ingiunzioni fiscali e poi, dati alla mano, spiega alcune questioni. Sull'elettrico il costo è di oltre un milione di euro, l'ente ha incassato solo 640.000 euro e così via con questi buchi. La banca dati del SED inoltre non è aggiornata, per cui anche sui canoni c'è molta confusione e un'amorosità di almeno il 30-40%, ultima spina nel fianco, banca sistema. La transazione, datata 10-7-2015, fu fatta in giunta, ricorda, contro e senza di me che mi opposi. 7.900.000 euro che sono divenuti oltre 9 milioni di euro, con interessi letteralmente regalati a banca sistema, rate che si sarebbero dovute pagare con il recupero delle somme del progetto case, ma la verità, conclude De Santis, è che fu dato un acconto di 500.000 euro e di rate ne sono state pagate solo 19, per un totale di 5 milioni di euro, con l'ultima rata saldata ad aprile.